DISTRUZIONE DI GERUSALEMME Pensate a quello che c'è nella vostra vita di più caro e di più importante e quanto avvenuto ad un intero popolo che vede la distruzione della propria città santa e il luogo abitato da Dio, il Tempio, viene distrutto, raso al suolo. Dal Vangelo secondo Luca Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti. Coloro che sono dentro la città se ne allontanino e quelli che stanno in campagna non tornino in città. Qui Gesù descrive quello che avverrà tra il 66 e il 70 quando Roma circonderà la città santa. Al culmine di una guerra violenta l'esercito romano finirà con il distruggere il Tempio di Gerusalemme. E' quindi qui descritta la tragedia della guerra. E' la distruzione di ciò che allora era di più sacro per il popolo. Si invita qui a scappare e fuggire. Non c'è spazio per la lotta perché tutto sarà inutile. Quelli infatti saranno giorni di vendetta affinché tutto ciò che è stato scritto si compia. In quei giorni guai alle donne che sono incinta e a quelle che allattano perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. La violenza fa da padrona e la speranza sembra scomparire. E' qui descritta la tragedia di un popolo che vede la scomparsa di ciò che aveva di più caro. Cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni. Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani non siano compiuti. Tale distruzione però avrà un suo termine quando i tempi dei pagani saranno terminati. Era per le prime chiese cristiane un motivo di speranza e sapere che anche questa persecuzione finirà. Possiamo leggere in questa descrizione un riflesso di ogni guerra e di ogni devastazione dell'uomo sull'uomo. Se da una parte ci si può sentire inermi davanti a tutto questo almeno non ci si ritrovi indifferenti. Qual è il mio comportamento davanti alle notizie che riguardano le varie guerre nel mondo? Quali risposte do con la mia vita? so essere strumento di pace.